Fai una citazione Igor, nel tuo ultimo libro, del testo delle piramidi, intitolato il discorso delle due vie, in cui il Faraone dice, io faccio ciò che voglio, non vi è opposizione in me. Perché il Faraone si accorge di questo? Lui essendo il Faraone non è già libero? E cosa c'entra il Faraone con ognuno di noi? Il Faraone è un modo di dire, il Faraone è un modo di dire, Faraone in realtà vuole dire uomo di potere, uno potrebbe dire anche, usare un termine che a noi suona forse più vicino, mago, eroe, profetta, uomo libero. L'importante nella frase non è solo faccio ciò che voglio, faccio ciò che voglio io, mi conosco al punto da sapere che cosa voglio e conosco a tal punto la realtà che mi circondo, ho imparato a sentirla senza paure, tanto da poter accorgermi che tutto obbedisce a una mia necessità, a una mia personalità, tutto quello che mi capita non è contro di me, ma è per rivelare me a me stesso. Quindi ognuno di noi obbedisce a se stesso? No. Si è accorto questo il Faraone? No, purtroppo no. Ognuno di noi, magari, dopo la lunghissima iniziazione egiziana una persona si accorge che in fondo, tutto sommato, a un certo livello di crescita interiore, una persona si accorge che tutto quello che gli capita corrisponde a una scoperta di sé che sta progredendo. però nella stragrande maggioranza delle persone non esiste neanche questo problema qui, proprio non esiste perché nella società così come adesso non solo quello che uno fa, ma quello che uno pensa, non lo pensa lui, quello che uno pensa con il tipo di mezzi di comunicazione che abbiamo adesso è praticamente quello che pensa la televisione, quello che pensa un orientamento di quello che si può chiamare potere, che non è una classe dirigente, non è una casta, non è una qualche setta misteriosa che si dà le cose, ma è quell'obbedienza che nega tantissime persone allo stato di cose così com'è. E purtroppo nella nostra epoca questo linguaggio condizionato è fortissimo, una persona è completamente schiacciata fin dall'infanzia, addirittura nelle parole che sceglie, nell'intonazione che dà le frasi è schiacciata da modelli altrui. Tantissime persone per esempio dormono o addirittura sono morte e non sanno di esserlo, sono il targo totale, sono quella che nei film americani sono gli zombie, che sono di solito film di, anche se erano semplicemente film degli orrori, in realtà sono film di grande ironica denuncia di uno stato di prostrazione della mente della gente. Ok, a metà del libro spieghi che ci sono ultimamente conferenze, cioè ci sono tantissime conferenze che sono un vivace veicolo culturale in questo periodo e tu spieghi che ci sono due modi per rivolgersi alle persone, al pubblico. Il primo modo è quello di confermare quello che le persone già sanno e quindi di andare a tranquillizzare le persone. Il secondo modo che utilizzi tu è quello di far pensare e far scoprire cose nuove. A che scopo fare le tue conferenze? A che scopo questo secondo modo di rivolgersi al pubblico, alla persona? Ma forse la cosa più interessante che faccio in generale, indipendentemente dal contenuto che può essere, può non essere interessante, però una cosa che mi prefiggo sia nelle conferenze sia nei libri, io cominciando a scrivere, cominciando a pensare, io scopro. Può darsi che io durante la conferenza del libro arrivi a dire cose totalmente contrarie a quelle che mezz'ora prima erano le mie convinzioni. La tensione del parlare in pubblico o dello scrivere per un pubblico ti dà la possibilità di chiarirti delle idee, di affrontare dei problemi che altrimenti non avreste avuto il coraggio di affrontare da solo. Oggi questo, in altra parte siamo in un periodo in cui questo non è che sia particolarmente vantaggioso, nei periodi di crisi come quello attuale è molto più prudente, molto più redditizio parlare di cose che la gente sa già, di cose che la gente già si aspetta e dire cose rassicuranti insomma, ma assicuranti non necessariamente allegre, cioè far capire alle persone che sanno già tutto necessario, che tutto quello che si può chiarire in fin dei conti è già chiaro, basta sistemarlo un pochino, è una cosa che adesso calma lo stato di nervosismo della gente. Invece io penso che sia molto più importante adesso aumentare lo stato di incertezza delle persone e produrre, stimolare nella gente la voglia di scoprire qualcosa di completamente diverso. Infatti hai introdotto anche due modi per vedere la realtà, il modo normale, quello di tutti i giorni in cui vediamo la realtà in 3D più il tempo unidimensionale, quindi che segue una linea retta. Il modo che hai introdotto tu è vedere il tempo in 3D, quindi in 3D, quale risultato pratico porta a vedere il tempo in queste dimensioni? Cosa ci facciamo con il tempo 3D? Cosa riusciamo a fare con il tempo 3D? Allora, chissà se uno capisce questo, perché è un'idea un po' ingombrante questa, cioè è un armadione, è un'idea armadio, questo è un armadio di scaffali dentro. In realtà 3D vuol dire l'universo come siamo abituati a percepire normalmente, con il tempo che va solo avanti e il passato può essere solo ricordato e il futuro non si conosce. Questo è il tempo 1D, il tempo lineare. In realtà sono tutte aree facilmente raggiungibili della nostra coscienza, della nostra mente, in cui uno può trattare il tempo in altre dimensioni, cioè può andare avanti nel futuro, può tornare indietro nel passato, può affrontare, può muoversi nel tempo allargando un secondo enormemente, può contrarlo, può far passare rapidamente tanto tempo contraendolo, può plasmare il tempo in un mondo diverso. Dal punto di vista strettamente pratico-razionale, per esempio per quello che riguarda il mio lavoro è interessantissimo, perché se tu puoi correre avanti nel futuro, tu puoi benissimo, suona fantascienza, ma è la cosa più normale che c'è, è il primo giochino che si impara a fare. Allora io adesso non so, non conosco l'interpretazione, mettiamo, di questo brano della Bibbia, non ci si arriva da 2000 anni a capire cosa vuol dire, per capirlo ci metterò 15 anni di studio, va bene, allora siccome io ci voglio in questi 15 anni di fare anche qualcos'altro, adesso vado a vedere cosa saprò tra 15 anni, do una occhiettina, poi torno indietro e ricostruisco il modo in cui ci sono arrivato, così faccio di metterci 15 anni e ci metto mezza giornata. Sembra una cosa un po' matta questa qui, però è talmente studiata, ma talmente studiata a partire dalla fine degli anni Sessanta, da università, dalle forze armate americane, dai russi, non ne parliamo, dai cinesi non so, però dicono che anche i cinesi, dai russi tanto questa cosa, che è un fiore che aspetta di essere colto, ma è nel giardino di tutti, tutti possono accorgersi che c'è, occorre semplicemente dire perché no, posso, imparare quelle due stupidaggini che ti aiutano a farlo. Non c'è il rischio di perdersi in questo infinito? Si entra all'interno di questo tempo in 3D, una persona normale c'è il rischio che si allarma di questa libertà totale che ha e di perdersi, di trovare un caos davanti a sé. Com'è possibile trasformare il caos in ordine? Tu alla fine del libro introduci l'albero della vita e quindi potrebbe essere uno strumento l'albero della vita per trasformare il caos infinito in ordine? No, no, allora tutto quello che una persona riesce a trasformare in ordine è al di qua, di quella dimensione, quella dimensione è per sua natura liberamente caotica, i primi dei della teogonia greca da cui vengono gli altri, il primo è caos e il quarto, sono quattro, questo gruppo di quattro comincia con caos e finisce con eros. Il caos non è cattivo, è creativo. Un creatore per poter, non è che il creatore crea dal nulla e dal che è il caos, al contrario, il creatore per prima cosa deve fare il caos, deve preparare il nulla, è il luogo dove non si orienta più per poter creare qualcosa di nuovo, da lì parte. Le eros e il bisogno della conoscenza, tutto quello che uno riesce a ordinare e riesce a dire, ah finalmente l'ho capito, è alle spalle, è piccolo. Quella posizione caotica, quella del nagual, come lo chiama per esempio Castaneda, o quella dell'essere, come lo chiamano altri filosofi, ecco quella posizione fuori serve a mettere in ordine diversamente quello che qui c'è, ti dà una prospettiva esterna e riesce a vedere la vita quotidiana non come un enorme universo che ti contiene, ma come un plastico in cui tu sei una figurina, naturalmente vedendolo dall'alto, da fuori dall'alto hai tutta una serie di dimensioni e di prospettive che altrimenti non avresti avuto. Quindi non occorre assolutamente poter mettere in ordine né spiegarlo a nessuno, è una cosa che uno usa per sé, è una cosa per sé, somiglia molto eventualmente a quel particolare stato intellettuale che c'è nei sogni, che produce sogni, uno guarda che sogni produce ma non va a vedere come mai li produca, è troppo interessante. in quel caos non sai neanche chi sei, è molto probabile che in quel caos una persona non sia nemmeno antropomorfa, non abbia braccia, gambe, testa, che non sia uno, e non ha nessuna importanza, l'importante è, tanto le parole di questa dimensione non possono descrivere quella, l'importante è che da quella dimensione lì vedi questa in un modo molto più rilassato è molto più prospettico. senza introduzione, ma comincia con me, ma? oggi Igor, parliamo del tuo discorso, Pepe. no, senza di. sei stanco? no. faraone? no. faraone. 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 io inizio subito con la domanda, senza farti ciao e non ciao. è acceso? è già acceso. uno, due, tre, prova. si, taglio il busto. io metto. tu metto. un progetto di ete. hai? ho, è allora che si, tagliarsi in. hai? io sono, hai? Grazie a tutti